Sono trascorsi nove mesi, era il gennaio di questo anno che il dottor Pietralia è entrato in ASL quarta diventandone direttore generale. Un periodo chiaramente difficile perché in piena pandemia e quindi di questo vogliamo parlare. Intanto parliamo di vaccini nei giorni in cui pare che forse il in qualche modo ne usciremo. Una panoramica. Sì, in effetti sono arrivato avendo fatto la prima dose di vaccino e oggi praticamente facendo la terza segniamo davvero un giro di boa. La terza dose della vaccinazione ai sanitari agli over 80 e dalla prossima settimana agli over 60 oltre che alle persone in condizioni di fragilità consente di poter rinforzare e dare una continuità di almeno un altro anno alla copertura vaccinale. Abbiamo tutti verificato che con il vaccino il contagio ma soprattutto la malattia e quindi i decessi si sono ridotti in maniera drastica. Se il nostro paese, la nostra Liguria e la nostra ASL vivono oggi sostanzialmente in una situazione pressoché normale di misure di contenimento rispetto alle misure di contenimento è proprio perché abbiamo vaccinato. Abbiamo vaccinato oltre 100.000 persone nella nostra ASL, ne mancano poco meno di 20.000 a raggiungimento di un teorico, molto teorico, 100% e di questi 100.000 vaccinati ormai quasi tutti hanno fatto la seconda dose. Appunto, partiamo con la terza e la terza sarà l'occasione di poter ritornare nei territori per fare le persone a domicilio, per vaccinare le persone a domicilio, ma anche l'occasione per poter riprendere in mano un rapporto ordinario, di vita ordinaria con le comunità, ad esempio con le stagioni della prevenzione che a noi interessa molto rimettere al centro delle politiche sanitarie, piuttosto che con la costruzione di risposte sempre più prossime, sempre più vicine, sempre più veloci, sempre più snelle rispetto ai bisogni di salute. Ecco, questo è un po' scenario dentro il quale la vaccinazione ha dato, sta dando e dovrà dare sempre di più tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini. Ecco, in questo scenario si inserisce chiaramente un argomento piuttosto spinoso che è quello del personale medico e paramedico comunque afferente all'ASL non vaccinato. A che punto siamo in ASL 4? Noi abbiamo sospeso perché così il decreto legislativo 44, la norma che ha decretato l'obbligo vaccinale per i sanitari, abbiamo sospeso dal lavoro 40 persone. Di queste 40 solo alcune, proprio una manciata, neanche stanno su una mano, erano medici, tutti gli altri infermieri o professionisti tecnici della sanità. Ma di questi 18, quindi praticamente la metà, sono rientrati in servizio e quindi sostanzialmente si sono poi vaccinati. Ne restano 22 e questi 22 oggi sono attualmente sospesi e quindi sostituiti. È chiaro che questa sostituzione pesa sull'organizzazione perché richiede il doppio di personale sostanzialmente, quello che sta a casa non vaccinato e quello che deve essere reclutato per sostituirlo. Ma pesa anche tutto il lavoro amministrativo, io questo lo evidenzio, che da giugno a questa parte i nostri uffici, in particolare l'ufficio igiene, sta svolgendo per seguire tutta questa procedura con migliaia di raccomandate, con decine e decine di delibere, atti, lettere. Tutto questo chiaramente pesa ulteriormente su un'attività che potrebbe essere dedicata ad altro e che invece è assorbita in questo. Ecco, un numero, quello di 40 che poi si è quasi dimezzato successivamente, delle persone allontanate, se posso usare questo termine, dal posto di lavoro, si inserisce in una situazione già problematica del personale che esisteva, per cui come superire a tutto questo? A che punto siamo? Io ho subito messo mano a una mappatura, come si suol fare nella normalità delle situazioni, per cercare di capire quale fosse la situazione. E abbiamo visto che negli ultimi cinque anni normalmente si richiedevano le cosiddette deroghe, cioè le autorizzazioni ad assumere sul turnover, quindi sulle persone che in qualche modo cessavano, in numeri di qualche decina. Quest'anno io ho chiesto 176 deroghe per assumere infermieri, soltanto infermieri, perché a mio modo di vedere questa era la dimensione di necessità. È chiaro che dal chiederle ad avere sul posto di lavoro 176 infermieri ci passa tutta la difficoltà del reclutamento. Noi abbiamo fatto tre bandi a tempo determinato. Adesso stiamo per assumere i neolaureanti, diciamo i laureandi in scienze infermieristiche dei nostri corsi, saranno una trentina. Ne abbiamo assunto qualche settimana fa 26, più 7 ostetriche. Quindi stiamo lavorando intensamente. Io ringrazio gli uffici del personale perché lavorano senza sosta. Quando saremo a regime? Quando troveremo le persone, perché oggi il nostro paese sta vivendo una carenza di professionisti, sia medici sia infermieri, notevolissima. Vi do solo il numero nazionale per capire. Parliamo di 17.000 medici specialisti che mancano, ma peggio di 63.000 infermieri. 63.000 infermieri sul territorio nazionale. Questo vuol dire che il processo di reclutamento è lungo, è articolato e noi dovremo fare di tutto per favorire il permanere dei nostri infermieri in questo bellissimo territorio che è il Tiguglio. Non solo perché si lavora bene, si fanno cose giuste e belle, ma anche perché ci si vive bene. E questo lo potremo fare anche favorendo l'alloggio, il vitto, le condizioni di vita, perché anche di questo dobbiamo occuparci. Per permettere oggi in una situazione di carenza e quindi di scelta da parte delle persone di scegliere di venire a lavorare qui. In tutto questo le case della salute come si inseriscono? Sono un tassello importante del disegno futuro della nostra sanità. Una sanità, dicevamo, di comunità, una sanità di prossimità. Le case della comunità, come le chiama il PNRR, le vecchie case della salute, vogliono essere luoghi dove trovare tutte le risposte. A me piace dire sempre che si passa proprio da casa della salute a casa della comunità per valorizzare il ruolo della comunità. E attenzione, non soltanto passivo, come a dire daremo opportunità e servizi a tutta la comunità, ma a me piace dire anche attivo. Sarà la comunità stessa che si ritrova in queste case per dare servizi a se stessa, cioè alle persone più fragili, più in difficoltà. Un bel esempio, una bella idea di sussidiarietà che potrebbe davvero fare la differenza nei servizi alle persone. Progetti in questo senso? Tanti. Noi stiamo disegnando la mappa della nostra ASL sia rispetto agli ospedali di comunità, che è le case della comunità, sia soprattutto alle attività a domicilio, perché poi quello resta il punto nevralgico, rimanere al domicilio in buona salute il più a lungo possibile. Le case di comunità sono state viste un pochino in maniera ostica dai medici di medicina generale. Il rapporto col proprio medico è un rapporto essenzialmente fiduciario. Una collocazione all'interno di una di queste strutture di un medico di medicina generale toglie un po' questo. Come la vede? Io nello svolgimento del mio incarico nazionale all'interno della Fiaso ho avuto e ho occasione di parlare con tantissimi medici di tantissime realtà e io colgo una grande evidenza. La pandemia ha insegnato loro e a noi di lavorare insieme. Sempre di più loro e noi percepiamo una forte integrazione. Qui anche con i colleghi del territorio da subito abbiamo capito che si poteva e abbiamo lavorato insieme. Nell'interno degli hub vaccinali non c'era il mio paziente e il tuo paziente, ma c'erano i nostri assistiti. Il rapporto fiduciario è una cosa assolutamente doverosa, giusta, utile anche. Ma tutto questo lo dobbiamo ricondurre a una presa in carico più complessiva perché all'interno di una comunità appunto come quella casa della comunità bisogna essere capaci insieme di dare le risposte più appropriate, migliori, tempestive a tutte le persone. Parlare di casa di comunità fa venire in mente, ospedale di comunità, fa venire in mente una situazione che Regione di Guria sta affrontando in questi giorni con l'ospedale di Cairo Montenotte, tanto per dare un parametro. Sulla realtà di Asl Quarta esiste ancora un punto interrogativo sull'utilizzo dell'ospedale di Rapallo, direi della destinazione del secondo piano. Ci sono progetti? Sì, direi di parte del secondo piano perché se mi fate fare questa battuta, l'ospedale di Rapallo insiste su tre livelli. Ogni livello è fatto come in una lettera U di tre segmenti. Noi parliamo di due noni dell'ospedale di Rapallo perché gli altri sette noni sono tutti occupati e andranno a pieno regime col progetto Restart. Quei due noni, cioè quei due segmenti su tre del secondo piano fanno parte di una delibera regionale ormai del 2020 che prevedeva l'utilizzo per attività di elezione, cardiochirurgia, ortopedia e o, in termini anche eventualmente di gestione terza. Ecco, questo è un percorso che Regione di Guria con Asl Quattro sta sviluppando per cercare di chiudere al più presto il percorso di esecuzione di questa delibera o di trasformazione di questa delibera. Ma resta il fatto che si parla di due noni dell'intero ospedale di Rapallo. Il resto è un ospedale funzionante che sarà sempre di più a regime. Così come le ho chiesto di Rapallo, le chiedo di Sestri Levante. Sestri Levante è l'altro grande polo ospedaliero, insieme poi naturalmente a Lavagna, della nostra Asl. Anche per Sestri Levante il progetto è molto chiaro, quello di rafforzare la sua vocazione medica e riabilitativa. Perdonatemi, medica intendo di medicina internistica e non chirurgica quindi. Perché questo è lo scopo che un ospedale importante, per un distretto importante e non solo per quel distretto, perché la riabilitazione di Sestri Levante piuttosto che la medicina a carattere infettivologico, abbiamo tutti potuto constatare come sia stato l'ospedale Covid e abbia funzionato come ospedale infettivologico durante la pandemia. Sestri Levante avrà questa vocazione e al suo interno la casa della comunità, l'ospedale di comunità, lo arricchereanno ulteriormente per essere un presidio fondamentale di quel territorio, un presidio pieno e un presidio che si rinforza, non un presidio che rimane, come dire, in qualche modo parzialmente carente di risposte, anzi.